Bentrovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Nelle prossime puntate della nostra serie preferita, ci attendono colpi di scena e momenti di grande tensione. Scopriamo insieme alcuni dettagli su così. Akan vs Emir. Una furiosa rivalità. Akan, profondamente furioso con Emir per avergli portato via tutto ciò che aveva di caro, dalla carriera alla sua amata, si sente spinto verso un atto estremo, la vendetta. Determinato a uccidere Emir, la situazione si fa tesa. Ma, come spesso accade nelle migliori storie, non tutto andrà secondo i suoi piani. Un misterioso salvatore interverrà per proteggere l'antagonista da un destino mortale. La gravidanza di Zeneb è un matrimonio inaspettato. Un'altra trama si dipana quando Zeneb scopre di essere incinta di Emir. Tuttavia, Akan, in un gesto inaspettato, le offrirà la sua mano, proponendole di sposarlo. La famiglia di Zeneb e la sua amica Feime saranno favorevoli a questa unione, nonostante la giovane sia riluttante. Sarà costretta ad accettare le nozze per motivi di opportunità, all'insaputa di ciò che accadrà poco dopo. Rapimento e vendetta. La situazione si complicherà ulteriormente quando Emir trama nuovamente. Per infliggere un ulteriore colpo a Akan, farà rapire il fratello di quest'ultimo. Questo drammatico evento costringerà Akan a interrompere i suoi piani di matrimonio con Zeneb. Proprio mentre stanno per dire il loro, sì, in un'atmosfera già tesa. Perso il lavoro e in balia dei ricatti di Emir, il commissario Akan cercherà vendetta. Accecato dall'ira e dalla frustrazione, deciderà di affrontare Emir con una pistola in mano, pronto a risolvere la questione con la violenza. Tuttavia, nell'atto cruciale, qualcuno spronerà la situazione inaspettatamente sparando alla mano di Akan, permettendo così a Emir di fuggire. Le tensioni tra Akan, Emir e Zeneb si intensificheranno nei prossimi episodi. Con il rampante intreccio tra amore, vendetta e salvataggi inaspettati, i fan della serie sono in attesa di eventi che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso. Non perdete le prossime puntate per scoprire come si risolverà questa drammatica saga. Grazie a tutti.